Si chiama Tutta mia la città, l'iniziativa della Proloco per promuovere l'attaccamento alla città e l'amore verso il nostro territorio. Si terrà domenica 28 febbraio. 12 visite guidate dalle 10 alle 19.30 ogni mezz'ora con una pausa dalle 11.30 alle 16 con guide turistiche esperte che guideranno gruppi di 10 persone. Un numero contingentato a causa delle prescrizioni anti-covid per scoprire la bellezza delle nostre edicole votive. La scelta non è casuale perché parte dal concetto che se si conosce si protegge. L'idea infatti è partita dal brutto incendio che ha danneggiato la copertura di un'edicola votiva in Vico San Silvestro. Un gesto da condannare ma che, secondo gli organizzatori, si combatte conoscendo e prendendosi cura di quelle opere che caratterizzano la nostra cultura popolare, di cui la devozione mariana rappresenta un elemento importante.